...medico, lo esame, poi ho fatto gli edifici, però c'è il fatto di un'autobora, no? Mi trovo ad esempio che trovavo un pallino che mi infingeva, perché mi aveva già un pallino, ma poi era vivo, era grande, se stava, no? Anche lì era tutto lucidissimo, non so lo voglio dire. Era molto buito, è solo delle stelle operatorie.